Rollio in pista a Rimini per il processo che vede al centro il crack di Aeradria, la ex società che deteneva la gestione dell'aeroporto Federico Fellini di Rimini e San Marino. Tra domani e lunedì infatti interverranno le difese degli indagati, rischiano di comparire sul banco degli imputati l'attuale sindaco Andrea Ignasi e il suo predecessore Alberto Ravaioli, gli ex presidenti della provincia Stefano Vitali e Ferdinando Fabri, il presidente di Rimini Fiera Lorenzo Cagnoni, l'ex presidente della Camera di Commercio Maglio Maggioli e quello di Aeradria Massimo Masini. Per gli indagati eccellenti le accuse non sono di secondo piano, si va dalla truffa aggravata per l'erogazione dei fondi pubblici all'associazione delinquere finalizzata la bancarotta fraudolenta. Sembra assumata ormai la possibilità di patteggiare per Masini, mentre è improbabile l'accordo per Alessandro Giorgetti, ex presidente di Aer. E quasi certo per l'ex vice presidente di Aeradria Massimo Vannucci, per il quale la pena da scontare sarebbe più lieve considerate le dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Mentre ci sono patteggiamenti già concordanti per gli ex vertici della società Riviera di Rimini, Iliana Baldelli, Cesare Ciavatta, Egno Sanese, Maurizio Cecchini e Pierluigi Gasperini. Tra gli indagati ci sono anche Fabio Rosolen, Santo Pansica, Mario Formica, Stefano Fabri e l'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi. Il primo legale a parlare nell'udienza preliminare di domani sarà il professor Nicola Mazzacuva, che difende il sindaco Gnassi, poi gli avvocati Catrani per Pansica, Vecchi per Giorgetti e Nanni per Formica. Dopo il weekend, lunedì, la parola passerà agli altri legali per le difese dei propri clienti, in attesa del maglietto del giudice Cantarini che deciderà sugli eventuali rinvii a giudizio.